Il Palazzo Martino Fiorini è stato aperto due anni fa dopo un lavoro di restauro in occasione delle giornate fai di primavera e quindi lo mettiamo a disposizione per gli eventi culturali del nostro territorio e naturalmente siamo stati molto felici di accogliere la scuola della signora Gabriella Leone, delle ragazze che veramente si impegnano tantissimo nella danza che è una forma d'arte, credo, una di quelle proprio più complete che possano essere per la crescita dei giovani dal punto di vista fisico e spirituale. Quindi da questo punto di vista credo che anche sotto questo aspetto sia molto bello dare la possibilità di poter usufruire di questa casa antica, di questo palazzo antico di Acireale che racconta la storia del nostro bisnonno perché è stato costruito dal nostro bisnonno il Cavaliere Martino Fiorini ed ha costruito questo palazzo cercando di creare un'atmosfera quanto più possibile calda e familiare. Abbiamo cercato di ristrutturare il palazzo per metterlo all'isposizione di eventi culturali perché diciamo che siamo amanti della cultura anche un po' come famiglia, come tradizione, come storia anche della nostra città di Acireale. Grazie